Buongiorno a tutti, grazie per il privilegio di visitare un rato se non trovi con la perspectiva. Non è un momento speciale qui, è un momento di fin di anni. Grazie per la vostra sintonizzazione. Grazie per la vostra sintonizzazione. Grazie per la vostra sintonizzazione. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.